allora mettiamolo settimo ma non avrei mai messo settimo però l'hai messo settimo allora io vorrei fare il gioco della piramide non lo conosci il gioco della piramide il gioco della piramide è che praticamente ho 10 nomi di streamer italiani te senza sapere quello che dico prima e quello che dico dopo devi farmi la classifica quindi io te ne dico uno cioè ti dico un nome di uno e te me lo metti sesto però non sai come va a finire ora, ti dico il primo nome piramide con il rosso per quanto riguarda streamer di Twitch Italia ovviamente io sono andato siccome fa premessa non seguo allora sono andato a vedere ha studiato ha studiato Blur è uno tutti eh sì sì Dario Moccia che posizione lo mettiamo terzo Grimbaud quarto cerbero podcast e si scende sesto manuxo ah cazzo quinto dai quinto il rosso ah ce l'ho incluso anche io no no non mi posso dai decimo sei 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 falso sei falsissimo oh miato ah è mio cazzo perché io secondo volevo mettere un altro adesso che posti ci sono disponibili eh c'è il 7 8 9 il secondo 7 8 9 però aspetta ho sbagliato non sono 10 sono 9 quindi mettiamo rosso no non sono 9 ok quindi 7 8 e 2 manca allora attualmente attualmente nel mondo di Twitch cioè è una leggenda quello è il fatto esatto però no ovviamente è una classifica attuale no ok allora mettiamolo settimo ma non l'avrei mai messo settimo mai però l'hai messo settimo eh lo so Marzone è il secondo chi è Marzone ragazzi io non lo conosco fortissimo è forte forte e ultimo Masseo è la stessa legge di Omi qua cioè nel senso è Masseo pensi che abbia perso un pochino attualmente ma secondo me è normale che col tempo cioè poi ognuno ha il proprio percorso se ognuno magari dopo cioè ribadisco Twitch è veramente pesante quindi nel tempo uno può anche accomodarsi o magari nel tempo vuole stare più tranquillo cioè ognuno ha le proprie motivazioni ovviamente è calato ma sono soltanto numeri cioè comunque il Masseo è sempre il Masseo cioè Omi è sempre Omi cioè quindi è soltanto il numero che l'ospedatore medio vi dice ah ma il Masseo non fa più i numeri di prima ma non c'entra ben poco comunque è sempre il Masseo è molto difficile mantenere no ma devi essere davvero costante soprattutto quando i numeri grandi come un Omi come un Masseo mantenerli nel lungo termine comunque loro sono da su Twitch da una vita non so quanti anni una vita però mantenerlo ogni anno è tosta quindi magari sono arrivati in un periodo in cui ho detto boh questo Blur al primo posto è inamovibile no perché vabbè lui è da tantissime anni su Twitch però è oggettivamente irremovibile da lì cioè è proprio un mostro è forte appunto non ci puoi fare nulla però pensa veramente detta tra me e te dover per forza essere tutti i giorni lì su Twitch quindi non puoi fare viaggi non puoi fare cioè devi essere sempre in live e se vuoi fare un viaggio lo fai diventare appunto parte del tuo Twitch ma in realtà è il contrario cioè nel senso adesso non è più il viaggio cioè non è che viaggio e poi vabbè faccio la diretta adesso faccio la diretta e viaggio quindi viaggio per lavoro non viaggio per oh vado ad Amsterdam perché voglio andare ad Amsterdam non ti prendi manco tipo che ne so due settimane di stop niente l'ultima settimana di pausa che ho preso è stata a marzo ho fatto quattro giorni tipo a Tenerife ma l'ultima vacanza prima di quella è stata l'anno scorso a agosto una settimana e mezza quei quattro giorni li hai passati a pensare no in realtà sì perché poi non ce la fai a staccare cioè per staccare devi stare fuori un mese ma il fatto che si stacchi è un casino ricominciare anche poi è veramente difficile quindi la roba bisogna staccare ma comunque un minimo deve essere sempre connesso perché poi quando torni cioè deve avere già le cose cioè non è che io finisco il 17 poi il 19 e rinizio le dirette quindi io devo lavorare per il 19 un attimo hai fatto l'università per caso? ma non l'hai finito? no 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 ero a metà percorso ero arrivato al secondo anno e mezzo cos'hai riscritto? scienza e la comunicazione ok e poi gli sminissi e si può ho detto che oggettivamente chi me lo fa fare? no ma in realtà oltre a quello il fatto che non è che servisse più cioè lo notavo cioè il mio percorso poi ci sono tanti percorsi universitari che servono però a me non portava non portava nulla mi ha portato molto di più al livello di comunicazione ma non nel comunicare come una persona proprio nel mondo della comunicazione nel viverlo quindi ho detto perché quando posso viverlo cioè viviamolo però sai anche il modo di parlare comunque c'è se senti che hai studiato un minimo no? è importante anche quello hai creato come una persona è servito assolutamente assolutamente cioè a mani basse serve ovviamente la scuola l'insegnamento però lo studiare tipo un po' adesso fonetica capito? non mi ricordo nulla però erano tipo lettere strane lettere strane che dovevo sapere come si comuni come si scrivevano è tutto strano non mi serviva cioè è soltanto un qualcosa di culturale in più che hai che hai ma in fin dei conti non serve poi nella pratica chiaro